E adesso... No, ragazzi, non è come pensate. Questa qui mi serve per asciugarmi le lagre. Ragazzi, ho fatto la pazzia. Dai, basta, sta cosa che sono più fake di... Boh, non è la... non è la d'urso. Allora, ragazzi, buonasera e benvenuti sul canale. Ragazzi, ho fatto la pazzia. L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Che cosa ho fatto? Ho scambiato la Fennec per l'Octane. Bianco Titani. No, 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 no. Calmi, calmi, calmi. Lo so che Jotzy non è Jotzy senza Fennec. Io lo so, io lo so, io lo so. Cioè, dovevo farlo. Mi porta troppa fortuna l'Octane. Mi porta troppa fortuna. Infatti, infatti, grazie all'Octane, sono arrivato Diamante 2, Divisione 3, nelle ranche di Intrevi 3. Cosa arcana, perché non riuscivo mai a rancare. Infatti dopo vedrete, cioè, fuori di testa sto video. Però ragazzi, sono tanto, tanto triste. Il mio obiettivo è uno solo. Arrivare alla Dominus Bianco Titanio. Quindi, regà, se avete la Dominus Bianco Titanio, contattatemi su Instagram. Basta cercare Jotzy e mi trovate. Contattatemi su Instagram, perché ve la prendo, regà. E il mio obiettivo è in più. E in più io ci riuscirò. Se arriviamo a 20.000 like, regà, io vi porto sul canale la Dominus Bianco Titanio. Il ritorno. E questo è l'obiettivo. Perché? Perché con la Dominus, regà, mi trovo. Che è? Con la Dominus, regà, io spezzo tutto e tutti. Quindi, ragazzi, like dovuto. Scrivetemi su Instagram. Basta cercare Jotzy. se avete la Dominus Bianco Titanio che vi rispondo. E vi lascio al video, regà. Guardate questo scambio pazzo. Intanto io prendo la cartigianica e vado, insomma, a usare il mio Beghellus. Ciao, regà. Regà, sto per dare la mia Fennec Bianco Titanio. No, ma che ciao, YouTube, regà. Quando prenderò la Dominus, allora ciao, YouTube. 500, non di più, regà. Regà, è tornata. È tornata all'ovile. Se dovessimo arrivare nel video di YouTube a 20.000 like, tornerà anche la Dominus Bianco Titanio. Io l'ho detto. Io l'ho detto, regà. Dai, che palle, comunque. Era nostra. Era nostro il game, eh. Che la Madonna ci ha proprio accompagnato. Anche se non è per tutta la vita. Bam. Come un riccio. Eh, tua madre. Dove hai preso la felpa? Berca. Ti piace? Te la vuoi comprare? Sta avendo. Sudata. Bello questo. Questo è bellissimo. Eh, zazzi, là. Oh, puttana miseria. Sto schifoso. Ma hai visto quello schifoso che voleva fare? Mi voleva bambare. Sta macchina costa più del tuo computer. Eh, vedi? Questo è Flex Weight. Scorgo di star bene senza tutta sta merda intorno. No. Mamma mia, se mi uscì a sto gollo, penso che gridavo come... Quando metto a posto me... Un ragazzo... Ha fatto... Ha detto... Eh... Che dici? Mi fidanzo con la mia... Con la mia crush? E io le ho detto... Ma che ti fidanzi con la crush? Fatto tra... Se ti fidanzi oggi... Poi il 14... Il 14... E San Malendino le devi fare il regalo. Poi che fai? Il 18 è il primo mese che stai insieme. Che fai? Non le fai il regalo. E metti caso che è nato il primo marzo. Sono tre regali nel giro di un mese. Aspetta il 15 e stai a posto. Mi fai più dell'alcol... Mi fai più dell'alcol... No! Traversa! Paloce! Dai ragazzi! L'avevo dunkato perfettamente. Bello questo. Yo! Stai con me! Sono sempre senza a boost. Che mi ripagano in testa. Oh! Oh! Regà! Io ho comprato questa octane... E mi ha fatto fare solo win, regà. Non è cool, bitch. Solo win, regà. Il flick è un musty al contrario... E non l'hai inventato tu. Ok. Lo sai che il musty si fa così? E mi spieghi... Dove lo vedi il musty al contrario. Se... Oh! Se il mio è così. Uh! E mi confondo come... Uh! 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 Uu! I stessi spigoli in cui la sbatto. Bam! Vado li abbiamo massacrati, regà! Diamante 2, regà! Diamante 2! Il Luca nella carriola con 6 punti. E... Silver. Il signor Luca Treviscotti. Gran carriola. Mamma mia! Comunque da quando ho messo l'octane, regà... Se tira! Se tira! Vai, another one! Questi già sono toxic, regà! Bel predicto. Mamma mia! Questi sono sgravi, regà! No! Se l'avesse lasciata! Se l'avesse lasciata sarebbe stato goal, regà! Bello questo! Bello questo! C'è 10 win di fila! Stiamo... Stiamo facendo 10 win... C'è... So... Quando è win di fila? C'è... C'è... Questo passaggio ti è piaciuto? Oppure no? Non è che devi fare per forza goal! Porca puttana, eh! Non è che chi fa goal... Allora è forte! Non funziona così! Perché Kecko ha fatto goal! Perché io gliel'ho passato! Che sennò Kecko stava lì... E guardava la porta! Vedi? Mo... Kecko è stato bambato! Perché io l'ho bambato! Vedi? Questa cosa io l'ho fatta! Non è che devi fare per forza goal! Altrimenti, se devo fare tutto io... Me ne vado in 1v1! E lì così almeno... Non dite... Eh! Non hai fatto niente! Eh! Capito? Cioè non è che devi fare... Cioè non è che adesso sono fortissimo perché ho fatto il goal! Regà no! Non funziona così! Le 3v3 sono un gioco di squadra! Regà! Cioè... Non è che se segni allora sei forte! Non funziona così! Mamma mia che assatanati che siete! Mamma mia! Mo sto migliorando... Cioè voglio migliorare nelle 3v3! Perché non le ho giocate mai! E siccome voglio vincere i torni champion! Cioè voglio vincere altri torni champion! Perché ne ho vinto solo uno! Mi serve... Per esempio... Mi serve migliorare! Questo ormai ragazzi... Da dietro! Oh sì! Dai! Oh sì! Dai! Così ti voglio! Spruzzetti! Vai! Ecco! A 2! Ah! Gli piace! Ecco hai visto? Li abbiamo appoggiato troppo forti! Ma un set tastiere! GG! Li abbiamo appoggiato troppo forte raga! Bam! Divisione 2! Diamante 2! Divisione 2! Incredibile ragazzi! Una win streak incredibile! Quando ne abbiamo vinte di fila! D'acqua! Come克 tea! E' Tenemos att gamma! れ c'è il Grazie a tutti